Il sindaco Carlo Salvemini mira a potenziare i trasporti pubblici in tutte le sue forme e così nelle scorse ore ha consegnato un documento all'assessore regionale Deborah Cilento per chiedere la valutazione da parte della Regione Puglia della possibilità per SGM di unire i comuni della cintura salentina. Quello che ci prefiggiamo è attraverso questa proposta di modifiche della Regione regionale di consentire che il nostro trasporto pubblico possa essere autorizzato ad andare anche fuori dai confini della città di Lecce e intercettare quell'utenza che vuole poter esplorare alternative all'auto privata per giungere in città. Offrì un'alternativa all'uso dell'auto privata insomma anche a chi viene dalla provincia. Salvemini ha chiesto all'assessore Cilento inoltre di poter prevedere figure di finanziamento specifico per la rete ciclabile tra Lecce e i comuni della prima cintura. L'assessore regionale ha posto l'attenzione anche sull'incremento di quella che è la mobilità sostenibile. Continua a crederci tanto? La mobilità sostenibile è il trasporto pubblico locale perché costituisce un'alternativa all'uso dell'auto privata e quindi un alleggerimento del carico veicolare a Lecce. L'altra è la possibilità attraverso le nuove misure di finanziamento regionale di sostenere progetti di connettività ciclabile tra i comuni con Termini e la città di Lecce che a volte si vengono raggiunti l'uno con l'altro senza soluzione di continuità. Rafforzare quindi la rete ciclabile l'assessore per il momento ha raccolto le stanze del primo cittadino promettendo un'attenta valutazione. Premesso che è il primo comune che incontro l'ho fatto con molto piacere è normale che ora ci sarà una valutazione in primis tecnica per capire la fattibilità di questa richiesta e di questa istanza che mi è stata consegnata stamattina.